Buonasera, siete emozionati di essere qui? Sì, molto. Allora, Dottor Strange vi avevo chiesto se eravate fan della Marvel, ovviamente stasera devo chiedervi se siete fan della Pixar. Guarda, da Paracool rispondiamo sì, eccetera. Sì, sì, sì. Allora, quindi della Marvel uno era quanto fan? 3.000, qua siete fan? 4.000. No, io sono oggettivamente... Ah, suggerisce di più e tu sei. No, allora, seriamente io sono molto più fan della Pixar che della Marvel, oggettivamente. Io ho le prove, ho sia il tatuaggio della Marvel. Aspetta che noi inquadriamo. Ho sia il tatuaggio della Marvel sia il tatuaggio di Toy Story. Ma lui fa questa gang a qualsiasi prima. Dimmi un nome di un film e c'ho. Spider-Man. Ce l'ho. No, non diciamo no, non diciamo no. Va bene che ho sbagliato. Non si può sapere tutto. Esatto. E che personaggio di Toy Story amavate o amate? Vuoi rispondere tu? Io direi i pazzi. Io direi i pazzi. A sto punto facciamolo. Tu ti fai sempre... E' troppo banale. Ma io sono un banale. Guarda come sono... No, io sono Rex di Rosario. Bellissimo. È vero, anche me. C'ho anche quella. Era bellissima. Era una patata che si trattivano tutti gli occhi, la bocca. È Mr. Poteto. Mr. Poteto è bellissimo. Ok ragazzi, allora buona serata e buon divertimento. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.